Salve, sono Franco Marino dell'Associazione VUF Napoli e siamo presenti anche noi insieme al coordinamento pregree o mare libero per dare sostegno a questa iniziativa che parte da liberare le spiagge e quindi disapplicare la normativa che prevede la proroga infinita di queste concessioni e soprattutto perché pensiamo che sia importante tutelare il mare che è una risorsa per la sopravvivenza del pianeta. Grazie